Prima di qui ti uonga, ci vorremmo piacere su un talco una persona a sorpresa, che è Mario Donato Lombardi, sali, ce l'ha detto lui, prima chiamatemi il suo palco, torta la bestia, la bella e la bella, puoi gara? Sentiamo che si prepara, intanto, ti acconto una barzelletta, un Daino dice a un altro Daino, e Daino giochiamo a Nascond Daino, e l'altro che fai che ti risponde? Basta, non la fai, va troppo scritto, dice ok, l'ha impazzito, Donato è reso per disperazione, è affonico che si diverte a mettere disate registrati, ma io Donato! Dai cazzo, dai su! Non si dice, non si può dire di parlare, sono in battaglia Non so, è venuto proprio dal Daino, non ho potuto trattare Tanto colgo l'occasione per salutare chi non è potuto venire Ciao Mucle, ciao Paoletto, ciao Zio Pen, ciao Frecchi, vedremo tutti al tuo comprenato